Accelera i tempi di vendita ed unisciti ai tuoi clienti con Real Alert Estate. Real Alert Estate è un'app multicanale che registra i dati della visita dell'immobile. Avvisa il proprietario in tempo reale e mantiene informato il compratore in caso di nuove visite negli immobili visti. Cambieremo il mercato immobiliare con il primo strumento capace di coinvolgere il compratore, comunicare con il proprietario e gestire i dati delle trattative. Aumenta le acquisizioni di incarichi con un servizio verso il cliente mai visto sino ad ora, valorizzando al massimo il tuo lavoro. Rivoluzione immobiliare in 5 step 1. Il mediatore inserisce nell'app i dati dell'acquirente prima della visita o li sincronizza dal suo gestionale. 2. L'app monitorerà la durata della visita, il percorso, se l'acquirente ha risposto a delle chiamate o inviato messaggi ed incrocerà questi dati con altri immobili già visitati. 3. Sarà inviata immediatamente una notifica al proprietario per avvisarlo della visita in corso del suo immobile, dandogli un riepilogo delle visite con i relativi risultati, note e valutazioni, che può consultare in qualsiasi momento. 4. Al termine della visita, l'app compilerà e manderà in stampa automaticamente tutta la modulistica necessaria per la parte burocratica, come la privacy o foglio di visita. 5. L'acquirente verrà informato ogni volta che c'è una visita per gli immobili che ha visto, cambi di prezzo, nuovi immobili e tutte le altre proposte dell'agenzia. 5. Real Alert Estate. La vendita in tasca.